momento della giornata quel momento della giornata che tutti noi odia che io odia aspetta come si fa a fare la stream the squad? aspetta aspetta un attimo come fare stream di... ho fatto di una essere tipo entrambi affigliati eh, eh, mo' vedo ecco come utilizzato stream in gruppo? stream in gruppo consente un massimo di 4-12 se mette l'aria in un'unica finestra ah, c'è una cazzata non me lo fa? si, fammelo 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 famm No Intanto vado Metto un modesto Che sto facendo un po' di giocato E il cartello No lo so che è otta Perché l'app di Twitch fa un po' sbocca Che non puoi fare tutto sta roba di fa' Cosa non è impossibile Ne fare in autostrada La piccola autostop Applauso giusto Qualcuno dicerà lui Non ne la puoi fare tu verdi E scappa Chi ha introdotto la sentenza Dashboard autore era no? Cosa avevo detto io? Non mi ricordo Il gestore streaming Della tua dash E Napoleone Non puoi più sbagliare Mi raccomando Chi è esentato dall'obligo di incostare alla guida alla cintura di sicurezza Vigino urbano o un uomo al due metri Aspetta che sono un po' Nooo Lisa E' la tua occasione Vuoi atvingere dalla fonte della guida o vai diretti da sola? Atvingere Andiamo Aspetta Aspetta Sto andando a sto fan casì Ah Ho fatto Aspetta su F119 Addirittura Che cazzo sta a fare questo? Che cazzo sta a fare questo? Ok sono al dashboard Sul quadro gesto Roba è rapida Quale... che cazzo? Aspetta 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 He Aspetta Faccio prima di guardare un video su YouTube, capisco, sono un po' handicappato. Nel frattempo che aspettavo l'energia, se vuoi, se no iniziamo. No, non, 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 non. No, non, 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 non. Come andiamo a Giorgio! c'è molto Perché non c'era quella window? Non ho capito. Ah, solo affiliati. Eh, lo sapevo. Lo sapevo. Devi essere, ma non affiliati, credo, come a livello mio, ma quello superiore al mio. Non hai mai immagino. Quello lì da media 75 spec, che io non avrò mai. Ok, eh, niente, condividiamo la live. Vai, 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 ti aspetto. Aspetta, fammi condividere la live. Il mio ca... Dopo devi ricordarmi come si fa a caricare la live di ieri. Sì. Oh, due stanno guardando. What the fuck? Che cazzo c'è, Lai? Che cazzo c'è? Eww. Ma? 420 effetti? Ma che cazzo? Any Tov, Dunkin'Around, Insebetti. Vabbè, ho capito. Hi guys, if you're following me from United States, I'm here in Spaguimooin. Hi guys, if you're following me from United States, I'm here in Spaguimooin. E' il lupo E' il lupo Ok, va Fai vedere se si vede bene tutto Ok, vede lo schermo nero, non so Ho anche tu guadagnare dei soldi Con 100 soldi puoi evidenziare il tuo messaggio Che cosa? Ah nooo Tuuuu Ma io non mi seguo Tu non ti segui? Io non mi autoseguo Non posso neanche seguirmi Te pure c'hai il pulsante segui buggato Cioè te lo compare anche se Allora te mi seguo A parte che non ti puoi autoseguire Vai metti pronto Aspetta che mi sto buggato tutto Non posso aprire Instagram Ma che cazzo Non lo so, volevo aprire Schiaccio e si chiude Nani Ora si può iniziare Vai 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 Ah Ma spegni riavvia Ma spegni riavvia Che non ce l'ho bugato Oh C'è il player vai Ok Mamma le le emotiche in mano le le porco Lele adesso E qua devo fare l'uomo di medano Ma si Ma sempre non viene perchè ha fatto il fete zoccolo e non viene Lele Altro che uomo di medano Altro che uomo di medano Se sappi Sarai molto importante tu Mi dovrai Mi dovrai dire dove devo andare quando avrai gli occhi chiusi Ok? Ok No no In alcuni casi ti passerò il controller E io non mettiamo alcuna Solleva affanculo Questo viaggio si affronta e si finisce insieme No No L'interloppata Piccola speranzata Ah e si gode Part Part Frue Ahia Ok Un'altra cosa Vedo sul mio cellulare vi Guarda lì Veduto un lutto per l'incidente di oggi E poi Era un po' grosseto? No Un po' fuori Dal madonnino Io pensai che è merda direvo La pista non continua a chiudere Ciao tesoro Vado a fare un giro in bici BAM Ero un 25 E appunto Dico 82 82 Ho poi avuto merda che aveva stato di solito non ci passano i cazzi nessuno in macchina E a me avevo proprio due a passare uno in prima Guarda a perdere Cosa? Gli è partita a pulisare due sul canale mio Assoluto Eh Gli è partita a pulisare due sul canale mio Gli è partita a pulisare due sul canale mio Contributi che è il nostro sponsor Vai Siamo carichi vai Niente ho bugato Io sai quando l'apro mi si chiude Non posso aprirlo Ma che cazzo ti frega di insta? Eh Mi serve Perché? 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 Impazzisco Sono lei Metti pronto Mi hai peggio sulle cazzo Mi hai peggio sulle cazzo Mi hai peggio sulle cazzo No aspetta Dai sono lei Crizzetti Metti sto cazzo di pronto Dai che Oh prima Prima lo bg prima finirà sta storia Muovete Si no atti che devo disinstallare i sta ristallarla Che mi sto facendo tiltare abbastanza Ma poi andiamo a fare l'obiettina Uh Mi è grado questa cosa Che stasera stacco lentamente presto No perché sei un pro No 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 Verre Spero che hai messo il volume solo sul gioco Spera veramente Due altri Io ho messo solo sul gioco praticamente Uomo di medano Oh piccola sberanza Vai Sto per caricare Ah Che è arrivato che è arrivato Ok Siamo dentro No Madonna mia No aspetta accendo la luce Un attimo Il mio Il professor Oh grazie Spiegate spiegate la storia Ma cosi inizio E' morto Spiegate la storia E' l'aspetta E' l'aspetta No 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 Non credo stia bene Tu dici che stia bene Ma Che succede Ma Mi sentivo le gambe in fiamme Stai bene Avanti diglielo Lo deve sapere La donna che ti assomiglia E' affogata nel fiume E' quella Era quella lì Cazzo E' il fiume Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel Non possono essere Ehm I don't like this Che sta eriva Oh L'hai visto L'hai visto L'ho visto Io non l'ho visto Sono l'è dietro Porca di quella troia Ma ti ha parato giù Oh muoviti No Ma perchè non ci sono muovi Che cazzo so' io Ma io sono l'ultimo Soyla io sono l'ultimo Non Fammi andare prima il bot Io sto in mezzo Così sto in mezzo Caci, io seguo te Eh, sì, dovevamo tipo indagazzo Magari ti potremmo le Le immagini Lei, le vuoi fare tu questa parte? No, 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 no Solle, non fa una mezza sega Solle, va tranquilli Vai avanti No, Caci, io per primo non ci vado Solle, dai, solle, da me a me, vado io avanti Siamo Ma veramente, solleva, porco Oh Solle, passami con tu Ok Fierini Fattum, fieri, infettum Asper Ma tu l'avrai già giocato No, insomma, cos'è più la speranza Caci, perché sei scomparso? Caci No, no, Caci, tu non vai da soli Tu, tu stai con me, Caci Caci Vieni qua, vieni qua, se lei c'è un cancello, vieni, c'è un cancello, vieni No, il cancello io non lo apro, c'è vai tu Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vedai che si fa di qua Ma appunto, mi, io, che cazzo ci facciamo qua in un cimitero, puttano, nella vostra mano, facciamo un'altra lapide, vieni Caci Oh, che cazzo era quel rumore? Che c'è? Il rumore era brutto Nonna, come c'è cazzo? Ah, qui è il tipo, ok Ma sono in caghetta Eh sì Io non li esamino, ho paura Lele, devi vedere che cazzo di jumpscare c'è da sto gioco, porca puttana Caci, in questo gioco è jumpscare simulator Ebbè, giusto, no No, 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 no No, al ponte Ma come mi parla stagione? Allora Allora Siamo in questa città in cui c'è stata una grandissima caccia alle streghe Aspettate che accendo la luce No, ma che accendi la luce? Tutti i personaggi che sono qui hanno una controparte nel processo delle streghe La tipa lì era una strega che è stata Nel passato, quindi? Sì, esattamente E adesso vediamo Metti pronto Aspetta che c'è... E per chi questi vedono sta bradando? E non lo so E perchè è lì perchè è lì L'ho più maledetta probabilmente Di notte specialmente Tipo su No, no, no I don't like that I don't like that Qui mi serve Qui c'è la nebbia E' la nebbia Ma non so se la nebbia sia... Non so Non so Non so Non so se ti possiamo Perchè Per esempio Prima erano sul ponte E' arrivato un tipo in bici E' il tipo si è immaginato che fosse un mostro E non lo so Oh 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 Che c'è che c'è questa casca che? Ok Oh cazzo Comunque se l'abbiamo indagato per un cazzo Madonna che palle Cimitero di merda E' fatto Possiamo Allontanarci Da quel punto Bravo Intelligente ragazzi Seria? Ah ma... Ah ma... Anch'io Ma che... Ah... Di questo... E' lì dietro? Oh! Vaffan... Jumpscare Ma? Eh... Oh no Oh no Oh no Non lo sbaglio sulle eh Non lo sbaglio sulle eh Non lo sbaglio sulle eh Ma sta fatte lisci Sta fatte lisci che una idea Oddio Gesù Orca di Dio Madonna solle... Ma... Bravo Ma in bici Ma? Ma quello dei primi E' quello che beve Vedi? Eh vedi eh zi vedi che è... Scammata Quello è talmente ubriaco che... Insomma Non azi ma... Non azi ma... Non azi ma... Non azi ma il volume è così alto che è puttana E mi cagomano per tutto Raffa la morte Guarda adesso ce l'avevo uno dietro Mh Continua a ripensare alle parole di quella donna C'era un insulle? Una farfalla Oh madonna Il farfalla in casa Il farfalla in casa Bravo se lo stai in fondo Oh cazzo una casa Vai dentro? Dentro a dare un'occhiata Eeeh non so Nooo Ecco Arriva Ma? Eh? Ma? Ma? Non mi piace Ah questi due Oh la porca puttana Ok Ma cosa è quello di Men of Medan? Qua? Delicchi Va tutto bene? No Ok mi schiazza Ma chi è sta lesbia? Aspetta fammi pensare Un utente radioattivo ha tentato di affogare gli altri Il nostro professore si atteggia da boy scout Siamo qui in una città dell'orrore con la mebbia assassina E ci sono degli squilibrati in costume Sessionati dalla stregoneria Ma sto bene? Tu invece? Beh sono ancora un po' scosso dall'incidente Già dimenticavo Ci siamo anche schiantati Beh di bene e meglio Ma perché stiamo già camminando? Nooo Oh cazzo Ecco 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 io mica l'ho sentito Per me? Qui ci sta la bambina Ecco Ecco Witch trial Ecco 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 Non posso passare Perché? Aiuto Ah una roccia Inter power drive Inter power power E' la roccia Ecco 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 Cazzo Oh Thanks for the bits Ah andiamo Anzi Ma ci posso davanti la bambina Scommetti Scommetti Guarda 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 Cambio di inquadratura Nooo Porca Oh porca No 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 Perché diventa così buio? Lele guidami Non sto vedendo Guidami No no sulle State fermi No no sulle Vedere cosa? Un ponte Un ponte No sulle c'è la nebbia A post Lele Seguimi Che vuoi? Seguimi Come ti segui? Seguimi C'è No se se Dimmi dove devo andare Seguimi No no Solle l'abbiamo seminato No Solle l'abbiamo seminato No Ma io so questo Solle no Solle solle Vai avanti tu ok? Ah bravo Solle Vai avanti bravo No 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 Bravo Solle Brutta puttana Bravo Solle Vado io? Vado io no? Vaffanculo vado io vaffanculo Vai te vai te Se tu Se tu Se tu Se tu uomo coraggioso No Donna coraggio No sulle campi di quadratura Ma Ma Mmm Ma easy Si Ti pare che Si fa così easy? Non sarebbe una musica No Dove sta andando La musica Si va vai Bambina 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 Dio di quel bavro Dio di quel bavro Se la musica è altissimo C'è altissimo il volume Ma se l'avanti tu Eppure c'è il volume altissimo Adesso lì Io non ho manco il La torcia Ma avanti tu Forca di quella troia Usa il tuo cellulare Scarica la batteria dai Era qua Azi era qua Era qua Preparate il jumpscare Ogni volta che c'è la bambina C'è sta il jumpscare Cos'è che c'è qui? Mmm Ma che sta a fare la tipa? Oh cazzo No 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 Mmm Tomba di una Tomba di una Strega No Ma Assolutamente che se Più giurotondo arriva la tipa Guarda Guarda Eeeh Dove sta guarda? Mmm Ho visto Oh no Ma 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 così eri Tieni giù le mani Porca di quella Bambina Oh Dove Dove Mucce la bambina Quella bambina è malvagia Io non capisco La mia adorata Amy Lo ha rivelato giunta in punto di morte Per porre fine al male Mary deve essere fermata Ma adesso le fermiamola C'è 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 la bambina Aspetta E tu chi saresti Perchè sono di tanto aggiorni In modo di non saper rispondere Forse io stesso sono vittima di sortileggio Oh eccola qui L'ho trovata Oh eccola qui L'ho trovata Come l'hai ottenuta Come l'hai ottenuta L'ho creata con le mie mani No è quella bambina No no Bruce Oh sullino Oh Questa è Nessuno di noi è il sicuro Ma è la tipa lì che si è bruciata Io ti imploro Vorrei tenerla Ma ti devo dire Andar che via Ma che c... Ma dov'è il tipo? Ma dov'è John? Ah Bello Ok jumpscare Momenti silenzio jumpscare Guarda eh Guarda eh Già c'è qualcuno dietro No sono le no No sono le no No sono le no No sono le no Tutto di valore Tutto di valore Curatore? Curatore finisce... No No ecco Ma entriamo in casa Ma dov'è la tipa? Ma dov'è Andrew? Buongiorno Siamo intrappolati qui Novità degli altri No Nessuna No Spero solo che stiano bene È strano che l'autista non si veda Ecco L'autista è già mica autista Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Non è che sta pure... Eh? Vaffanculo No Bambina Però non l'ho fatto il jumpscare almeno stavolta Ma perché sto un po' la tiri di collo Seguiamola Io ti dico La bambina potrebbe anche essere buona Potrebbe Da quello che ho visto io quando ero da solo Però non lo so Mentre questa... Mentre questa... Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del diciassettesimo secolo E' come la... Se avessero preso questa strada sarebbero qui Oh Porca Cos'è cosa succede? Quando ci avviciniamo alla bambina ci farà il jumpscare E beh si è ovvio Ecco Ecco Vai tu vero? Ecco Io sono John Che cazzo sono? No 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 io sono la tipo mi sa Che lì va dietro? Oh nessuno ok No solo è la nebbia, solo è la nebbia Che cazzo C'è qualcuno dietro, c'è qualcuno dietro Corri C'è quello lì che uscirà dal cosi Via No 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 Cosa fa questa? Questa viene maniata da qualcosa No solo è No solo è Ma avanti con gli occhi rimane qua da sola Ma è scema No no zi no so io Lo sapeva Lo sapeva Lo sapeva Ma quale... quale scema che rimane da sola Non siete? Delicatamente il bellissimo No solo è No solo è la preso Sulmi Sulmi Mi ha preso Sulmi Sulla Sulmi 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 U� No 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 No, sull'è Adios No, sull'è Dove corri, dove corri, mio Ma dove sta andando a questo? Ma perché te va, vatti, edito Ma quale io lascio la limoria Un cogliene che si ferma qua sopra Vatti, vicino Soll'è scendiamo, soll'è scendiamo Non fa il clown Ecco, bravo Ho fatto la cosa più sbagliata Sì, sì Addio, soll'è Tu vieni con me, giusto? Io so Angela, soll'è Sì, siamo visti Ma Andrew? Ma, ma Andrew? No, solle, sei morto No, solle, sei morto No, io se devo fare una parte qua sotto da solo non la faccio La fa l'è Passamela a me Passamela, passamela Passamela, passamela Guarda che mo' muoio così Ma vaffanculo Ma vaffanculo Guarda Guarda Ma guarda Adesso che prova di venire su Guarda C'è quello che lo grappa Tanto funzionano Funzionano così i giochi Ok, no, no E guarda la bambina ora? Ora c'è la bambina Uno dei due Basta Eccola Eccola Ah, porca di quella puttana La bambina fa sempre il jumpscare Quindi, preparati Sì, staccati il collo Staccati, sto stronzo Babbina del Ma perché vuoi Non poterlo soltanto aspettare al giorno questi? Qualcosa sta bloccando la porta Potresti darmi una mano Ma io mo' chissà, non ho capito Boh? Sì Manco io non ho capito chissà Ah, io so il professore Eh dai, io sì Tu sei John o non c'è dietro? Ah, via Perfetto No Perché so io quello che deve andare per primo Non mi piace Io tanto so Angela Quindi Io vado non ci so Ma entra, coglione Ma che cazzo fa questo cuore? C'è uno L'ho visto No, no, no Ok Ho visto uno Ma no, su lei è un È un manichino No, il manichino Non ti devi mai fidare dei manichini Proprio sicuro Farò tutto quello che serve Per proteggere entrambi Appena usciti da qui Raggiungeremo gli altri No, questa immagine non mi argo Se ne usciamo vi Ma cosa è? Andiamo Adesso non le vieni Carta? Tu chi sei, questo? No Sì, io so Andrew Eh, per forza Vabbè, caci Tu pieghi le cose Tu ti osservo Sì, i processi alle streghe Guarda Non ho ancora capito in che modo Perché No, ma ho leggi Ma che cazzo lo poggia fa? Vabbè, niente Fa senza po' leggi Io c'ho po' Qua c'ho qua Ah, sulle... Minchia, processa le streghe qua Questa qui c'è un quadro? Sì Che cazzo è? Sì, bel quadro devo dire Ma... Questa inginzione è stata arrivata Siete giorni per il regime Due carucati Carucati? Ah, minchia Il bestiame Saranno confiscati Ah, minchia È un cazzo di processo Vai Prima porta Vediamo un po' dove porta Prima I caci Ok, questa porta è chiusa Qui vediamo dove porta La seconda porta Oh cazzo Ma che è sta roba? Pronto di gameplay del posto Inizio di caci è migliore Però Guarda queste No, anzi, sono appese No È un brutto Eh, guarda lì Sono appeso Merlo Ma... Sono giù No, come ti sono No Oh, unice esame Mi dice Oh, esamina No Che è sto rumore? Cosa? Eh, fai Fai esamina Io non esamino niente È cambiata la musica Solo lei Ah, questa qui è la tipa Sì Ma che cazzo Ma la volta lei No, 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 no Ma che cazzo Stefano Ho capito Ho capito Menea Anzi Ma fino a un certo punto Ok, qui c'è un'altra roba Ma se passi no Sì, questi Oh, 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 oh esatto no sono la bambola no 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 va via quella bambola l'ultima volta che l'ho preso in mano o mi ha fatto il jumpscare no quando fai così fa il jumpscare chiudiamo gli occhi poi c'è la bambola no se la prendi in mano fa il jumpscare se la prendi in mano fa il jumpscare come l'ultima volta è il manichino quello non prende con la bambola non ci provare pochi minuti prima che incontrassimo me eh si e poi ho fatto il jumpscare ma ho fatto più al culo faffa no no prendi la prendi la lo faccio per il content ecco tutta la vita morti tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano no ma c'è dietro e dietro il nostro no probabilmente dovremmo bruciarla no brucia la sorpresa questa volta ho esagerato io non la voglio più vedere quello ma perchè è bruciare bruciare ma perchè la tengo lascia lì ma la brucia cosa se le c'è la possibilità di bruciarla era meglio non bruciarla eh no ma poi di via non è meglio bruciarla ma non lo possiamo rifare se la esamino un altro fallo 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 no io non la brucia ora c'è la bambina sono legato a 100% quello ma magari non bisogna salvarla la è il giocattolo della bambina preferita si devi uccidere la bambina 10 si non è buona riparla 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 si buce una cazzina di come il primo non mi sembra un mondo no ma sei sicuro che la bambina è cattiva prova a te anzi la bambina no sulle no cosa no sono lì qui c'è la finestra no 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 guarda 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 minchia il gatto porca di quella puttana no date mai indietro non guarda qua la finestra di merda gira di cognone bravo ah no caci perché io ho visto una cosa tipo la bambina dice la scappa e c'è tipo uno che inseguì la bambina roba così eh qui c'è altro o dovevo uscire per me la bambina potrebbe essere buona eh caci sei sicuro eh ma perché ho visto una roba quando c'eravamo divisi no che ho incontrato la bambina vuoi giocare quanto avete finito il gioco cioè in pratica ah perché la prossima cosa che si fa perché dobbiamo giocare io uomo di me danno con soldi ti vieni share con soldi eh sì ma dovete iniziarlo non puoi giocare calci con non puoi giocare calci con te ma non è già giocato io non ho giocato trovate qualcun altro io vengo in share guarda no no te devi giocare ah non mi diverti io non mi sto divertendo io sto soffrendo ora si potrebbe arrivare ora perché è così buio oh finito il capitolo vero? adesso guarda che io sono Angela e io sto sotto con la melma guarda è finito? è finito il capitolo? ma ne fammo un'altra se è finito perché no no basta no non è finito ah siamo i due coglioni siamo i due coglioni no spero che siamo qui dispersi nel lume in mezzo al bosco il bosco è finito ok ecco te l'ho detto prima no 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 caci vai ma che salti sti rumori beh almeno è me ma mamma caccio che eh ah sulle Angela ma ragazzi è sulle come? la tipo che è cascata è qui? eh non lo so perché non ce ne andiamo infatti india cazzo vai se lo scegli da tanto male ti farà scegliere dico ah no no stiamo in posto dove sono i due c'è qualcosa c'è qualcosa che ci serve che sti inquadratura che torna indietro torna indietro no 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 vai avanti le vaffanconnelli dietro c'è sti inquadratura ma se ma che morisse come lei che si ferma sul coso quando sta si sente in pericolo si ferma lì sopra non è più rimane da sola cazzo madonna 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 che c'è dietro c'è qualcuno dietro non lo so 10 dollari non c'è nessuno no ho perso ho perso ho perso ho perso 10 dollari sole ma sei un coglione ecco paralo cercami entrata bravo no ho perso 10 dollari mi è garbata chiedi dietro mamma mia ma in una vita precedente non mi piace no non mi piace non mi piace non mi piace è un'attività di streghe trovo un accesso alle distribuzioni insieme lo elettroniamo oh eccolo, uomo di medaglia, sempre andiamo ma si è via ma si è via così, bisogna per esempio aspetta, tu però aspetta che finiamo qua perchè io do solo un continuo e fai sta casino, andiamo, porcottino tanto manca poco alla fine del capitolo, vero Cassi? eh spero, vero Cassi qui c'è una porta c'è bella finiscono, loro facciamo noi si si, mi faccio c'era soldi un uomo di medaglia, c'è un finalmente un uomo di medaglia ma non c'è un uomo di medaglia, si può che quando parte di... ma domani allora cazzo, a questo momento, dovevo aiutare un uomo di medaglia, non so che ce l'ho, un uomo di medaglia, un uomo di medaglia, un uomo di medaglia, un uomo di medaglia non fagina se le vedi un pochino di uomo di medaglia, poi si accogliano qualcuno No, vaffanculo No, vaffanculo Se hai 10 minuti di uomo di metano te lo fai uguale Dalla finestra? Ah, dalla finestra, vedi qua Tu entri dalla finestra Zitto, zitto, zitto Zitto, zitto, zitto Simpli, spera Sa che spinta? No, no, no Sa che ti credi sa E mi davi 10 dollari No, ecco, ecco Guarda Guarda, cos'è? Cos'è quella Quell'apertura mandibolare No, no, no Eh, forza la porco Ma sei un cugno No, 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 no Aguri E ora solo ci entri tu, Cristo Dio No, no, ci entri tu, prima del Signore Prima del Signore No entro io, porco zitto Non sono cagato in mano Non sono cagato in mano Io non sono cagato in mano Non sono cagato in mano Io non sono cagato in mano Io non sono cagato in mano Ma poi... Perché di quella... Ma io... Mazzini, io ce la vedo mai al massimo No, stiamo... No, 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 no Mazzini No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siccola speranza è un uomo di metano Perché diventa... Oh, 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 oh Basta Vaffanculo Next Vaffanculo, vaffanculo Vaffanculo No, stava paura, papà No, sulle si sta muore Mamma, uuuuuh No, dove sta andà questa? È una pessima... Ma corri Dove sta andà questa? Ciao, Caci Questa è Karen, 800, sta muore di diretta No, sulle... No, sulle... No, no, sulle Sta da me, sta da me No, ma io sto apri' una porta No, sulle, sulle, sulle Sulle, sulle Ma non hai vista la tipa di QAČC? Se è proprio dritto Ah sì, è BZ attuali Sì qui ragazzi Io ce l'ho BZ attuali Trovo un modo per raggiungere gli altri Resta in gruppo Caci, dove sei? Guardando la live, ma sì Guardando la live Spera, vado a me la guarda un attimo un uomo di metà non diamo aspetta dovete un attimo caso si sentite l'era grande sulle metti pronti metti pronto e non ho visto lo vedrò è la ragazzina è la ragazzina sotto è la bambina la ragazzina non è la bambina si può mai scritto un'altra metti pronto se le metti ma perchè non possiamo andare dietro no no non puoi dopo si però no ma non lo più io tanto ma sono più io sempre soccato il titolo se hai preso caci e ora me lo vio io e ti occhio cosi trovate loro perché è loggio a parte che io soggiorno mi devo muovere no io non mi muovo la buona parte questa parte ci pensi io ci pensi io ci pensi io ci pensi io te lo posso passare a vedere passa passa va bene passa andiamo mi calmo la nostra cosa andiamo lì la passa fa me cazzo di fare basta ti muovi lì la passa o no scegliete basta che fai un secondo no un attimo un attimo sta parte ho il bisogno di sole sei un clown sole sei un fottissimo clown prego vedi che bastarda si vedi vedi che lei sulleviti che lei porca troia che c'è r2 gira un'altea non hai visto niente porca amazzo prendi bambola affronta bambina prendi bambola no porca puntana cerco di abbassare infartaccio bastardo questo foro stai bene cosa succede il posto imbecile ma non ho preso da un cazzo cerco di aspettare ma che spingi bambola non so dire so dire s'aperta c'è bacetto tu bastardo rifuori pezzo di merda chi parlava panico no ho visto me stessa avevo di fronte me stessa e lei mi guardava era vestita e parlava in modo strano io non capisco ehi scusa ho cercato di raggiungerlo ti ordine aspetta lei li passiamo il controllo lei e non posso io vi capire devi mettere in pausa sono nati allora hai fatto che la parte non era niente quella parte quanto pare però io non mi ha fatto davanti ma sicuramente c'era qualcosa eh probabilmente c'era stavo vedendo la roba ma mi hai portato alla cazzo ma hai proprio per queste cose eh fai non ho fatto il tempo fa niente andiamo già su concordo si corta oh qui c'è un coltello 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 ma dove ma qui ma qui ma qui ma qui c'era un coltello prendilo e chi ha un portatore a casa dammelo no non lo vuoi sapere eh si che fai tieni prendi o se ce l'ho che vuoi io tieni prendi o se lo vuoi tu o solle? no lo che io sono indifeso io sono indifeso ti ho coltello strutturo no vabbè ma sei un co solle non fa scazzare il coltello hai il più coraggioso mi raccomando esamina ma che ci sta mi sa che è buggato non puoi andare ok esci no no perché tu sei quello che si sacrifica io sono quello che combatte cos'è qui? aspetta la cosa di prima ma che è sta musica? basta la bimbo no no questo è un genere è una cosa stagionale per me no ma che cazzo è? che sta facendo? ma che cazzo è una cosa stagionale per me? ma questa è una cosa stagionale per me ma questa è una cosa stagionale per me dove sei? ferma ferma lele che lingua è? ma c'è scritto adesso? gli elementi sono lontani dalle loro stagionale per me lontani dalle loro stagionale per tutti i movimenti lontani dalle loro stagionale per tutti i movimenti lontani dalle loro stagionale per tutti i movimenti ma sei ritornato qua? come faccio? non posso dire ancora c'è solo due pagine so solo due? eh in teoria e le altre pagine non me le fa vedere insomma adesso la guardo io perfetto passamela perfetto dal Vangelo secondo Gianni ma che cazzo 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 per far cagare in mano sullea ok no lo sapevo no no qual'è questa? cos'è questo? no no eh sollevciamo? dai vieni tu esci usciamo non usciamo quanto pare eh giù vai vai di la eh vai di la vai vai mazza madonna ma qui l'avevamoci tutto curato si flashback di guerra di fnaf oh ma tutte chiuse so e niente cazzo vado a dire cosa? vieni di qua si si io ti seguo il mio gameplay è molto figlio di una buona do guarda qui si cosa? è caduto il manichino figlio di puttana è caduto il manichino mi ha fatto piang colpo eh ma ziii ma tu non li prendi giampino perchè sei sempre dietro bastardo Stardo Io mi rifiuto di andare avanti No dai sono lei Io non ce la faccio Non cazzo resiste Ma che cazzo stai a farlo Ehi a godo Per te hai cascato vaffanculo godo Tu vai davanti e mi avverti cosa c'è Per prima e poi così almeno me lo aspetto Guarda che qua devo strappare Un'altra cosa Mary Milton Ah ma questo era Ma sono le stesse cose Le ho girate prima Oh dai questo Solo lei c'è ancora la bambola Non c'è più la bambola Ma Solo lei non c'è la bambola E' mot del giovinieri Non c'è la bambola Si viene che la bambolina è di qui esposta Che si è presa Oh no no C'è la bambina adesso Caci Arriva c'è la bambina Arriva la bambina No questo che c'è la finestra dietro Oh 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 Ho visto Stranger Things Il nostro bambone Ho visto Heidi Hai Heidi Hai visto Stranger Things No 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 Sulle No da sé Stranger Things Io guardo solo i simpsons Ah i simpsons Lei l'ha mai visto Stranger Things No Mi piace Lei il barone ha mai letto i libri Ecco però vai avanti No ma ho giocato a morta e compi Baloo Ehi Ma anch'io che ho preso la bambola Ehi La bambola Venga Marco Porco Dio Marco Vieni 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 Ventilato Ehi La bambola Che la testa Non lo sai 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 Ma quando è che arriva Come è che si chiama il tizio quello lì Il curatore Il curatore Il curatore è la persona che amo di più Vai Metti pronto Vamo Alla Prima tu Ti prendi prima tu i jams Poi mi dici Mi avverti E dopo Mi riprendo io Sapendo che c'è A me è sembrata questa cosa È tanto da uguale È il cazzo di processo Prego Vai usciamo No Cazzo Devo curatore 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 Devo curatore Cacci Sì C'è il curatore Caricolo Oh sì La pubblicità Della Cos'è il coltellino che ho preso Avemmo una pistola e un coltellino Ma che sta a fare Sono lì ascoltalo Sì Sì Fai sì Fai sì Fai sì Dove sì Sì Fai sì Siete d'accordo Vediamo un po' Come potrei spiegarlo Ciascuno di noi Ha i suoi demoni Che sono intimi e personali E che spesso Nascono dal rimpianto Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conosco Credo a... Chi è che sta a fare così della madonna? Ognuno di qualcuno Troppo preso Ognuno di una bambina Ognuno di una bambina Ognuno di una bambina Ognuno di una bambina Eh sì Capito il capitolo È soltanto una bambina Eh appunto Tanto zio non ce lo voglio Lele quindi No andiamo Abbiamo avuto fortuna Ah sì Stop Che famo Stop Meno di io devo gestare il divano Ok E beh È stato bello So thank you guys for your support during the chat Thank you for all the messages Thank you for all the support And we will see next day See you next time baby Che strano GG Te l'ho detto che la bambina per me non è cattiva Perché ho visto con l'altra roba Beh Fammi Fammi rimettere l'audio Sì Next Che non c'è Proprio Non c'ho sbattito Sì blu Lobettine No no Io non volevo neanche accendere Per il sciopo di metano Vaffanculo Andiamo si fa du 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 Dai minchia le le son preso male Non per cazzo No mi do per la minchia Ci fa due risate Ci si fa Ma due cazzo Cazzo Andiamo vieni vaffanculo Che risate Mi fanno Mi fanno Non è la stessa La tenere La tenere Io io lo faccio solo Sto in caccia In caccia In condivisione Si Caccia In caccia No Caccia Morto Andate a sistema di vano Io vado a farlo Bettine Uomo di metano L'ho già giocato Mi stucco Va bene Vieni